Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. A margine della presentazione del suo libro Denise, per te, con tutte le mie forze, Piera Maggio ha concesso una lunga intervista ad affaritaliani.it, nel quale ha fatto alcune rivelazioni sconvolgenti. La mamma di Denise non intende darsi per vinta sino a che, nel bene o nel male, non sarà fatta definitivamente luce sulla scomparsa della figlia. Con il mio libro, Le dico la verità, spererei di arrivare a Denise, chissà che un giorno una ragazza, anzi una donna, sfogliando quelle pagine si ricordi. Anche perché il contenuto è ben diverso da quello che è il fatto di cronaca, ha dichiarato Piera Maggio spiegando l'intento principale del suo nuovo libro. Se nei confronti della stampa non nutre alcun risentimento perché le mie parole sono sempre state in qualche modo veicolate, cosa importante per i familiari di tutte le persone scomparse, ben altro parere nutre. Invece, nei confronti dello Stato, colpevole a suo dire, di aver commesso molti errori. Ancora una volta, poi, lancia un appello al boss superlatitante di Cosa Nostra arrestato lo scorso gennaio. Matteo Messina Denaro è una persona che ha avuto sempre a che fare con un certo ambito di criminalità anche medio alta, che risiede nella provincia di Trapani. Non si muoveva una foglia che questo signore non sapesse. Infine Piera Maggio si lascia andare ad un'affermazione che fa un certo effetto. La 52enne non ha alcun dubbio. Denise è viva. Ma affinché la vicenda della sua bambina non cada nel dimenticatoio è necessario che lo Stato intervenga istituendo una vera e propria commissione di inchiesta.